Il Convenio dell'8 marzo visiterà presso il CFS Napoli dal titolo Donne, Innovazione e Valorizzazione della Cultura Digitale ha lo scopo di aprire un confronto e un dibattito fra professionisti provenienti da diverse nazionalità e quindi sono uno scenario molto ampio internazionale su un tema fondamentale per lo sviluppo del territorio e della società quello della diffusione della cultura digitale. L'Italia purtroppo è in grave ritardo rispetto all'indice DESI che misura lo stato di digitalizzazione della società e dei territori l'Italia è al quarto ultimo posto, quindi è importante recuperare questo ritardo che si è accumulato ed orientare le professionalità femminili verso le aree STEM. Le aree STEM intendono professioni che riguardano scienziati, tecnologi, ingegneri o matematici e al di là di ogni stereotipo le donne dovranno sicuramente abbracciare queste professioni perché sono quelle che garantiscono al momento maggiori occupabilità.